Partiti! Partiti in diretta anche questa sera in questa nostra rubrica Facciamo che io ero. Facciamo che io ero, questa rubrica in cui si parla chiacchiere informali con amici parlando di cinema, teatro e televisione. Chiacchiere informali perché? Perché la cosa bella di queste interviste è che praticamente ce ne stiamo a casetta. Allora abbiamo già avuto il piacere di ospitare su questa pagina, su questo canale, in questa rubrica, tanti amici dalle loro case e quest'oggi è la giornata in cui ovviamente abbiamo un nuovo ospite. Lo abbiamo presentato anche con la nostra locandina di rito, anzi mi piace questa nuova locandina che ho creato e ho cambiato apposta per l'occasione. Bando alle ciance, questa sera, qui nella nostra rubrica Facciamo che io ero, signore e signori, Marta Zoffoli! Eccola qua! Ciao! Ciao, ciao, buonasera a tutti! Buonasera Martolina, come stai? Molto bene, molto bene. Poi oggi sono stata anche dal parrucchiere e devo dire che queste interviste così fanno questo effetto un po' lecciso, no? Che uno intanto parla con te e poi... Si controlla, si guarda, eh? Pensate che bello, è stata dal parrucchiere apposta per noi, per la nostra diretta. No, scherzo. Cara Marta, tu ci segui da tanto tempo perché c'è da dire anche una cosa, c'è un legame forte tra di noi, a parte l'amicizia, e anche con te sono ormai quasi dieci anni che ci conosciamo su per giù, una cosa del genere. Sì, noi ci siamo conosciuti con Voci nel deserto. C'è tutto un gruppo di Voci nel deserto, infatti, che ci unisce. Tra l'altro, ho seguito anche le altre interviste che hai fatto e mi fa piacere ricordare che mi sento un po' l'artefice di questo trio, io, te e Elda. Ah, certo! Perché io stavo facendo Voci nel deserto nel periodo che facevo i Cesaroni e un giorno, al trucco, parlai ad Elda di questo progetto e lei mi disse voglio esserci e dalla volta dopo è entrata anche lei a far parte del gruppo. Per spiegare un po' a chi ci segue Voci nel deserto, era ed è un progetto teatrale ideato e condotto da Marco Melloni, nel quale ci siamo conosciuti in tanti, tra questi ovviamente Marta, qui presente, ma anche lo stesso Giovanni Scifoni, Elda, Alvigini e tanti altri che magari poi avrò il piacere di invitare. Sono transitati un po' tutti, eh, per Voci nel deserto, perché ha avuto un boom pazzesco, alla fine eravamo una settantina a rotazione. Ma vabbè, come? Infatti no, però sono bei ricordi, belle cose e soprattutto cose che riguardano il nostro lavoro e come ci siamo conosciuti. Intanto ci salutano dalla regia, ciao Luis, ciao ragazzi, cominciano i saluti e i commenti. Perché? Perché devi sapere Marta che in questa mezz'ora che passeremo insieme, noi faremo un po' di chiacchiere in cui cercheremo di, come posso dire, un po' entrare anche nei meandri di quella che è la Marta Zoffoli meno conosciuta. Io ho fatto un po' di ricerche sempre perché mi piace andare a vedere, no, da dove comincia tutto il nostro viaggio. E poi nella parte finale andremo a leggere le domande. Quindi a chi ci sta seguendo dico scrivete le vostre domande di qualunque tipo di curiosità. Oh, immagina questo Marta, in questa pagina noi ci rivolgiamo e ci stanno seguendo attori un po' da tutta Italia, abbiamo scoperto, perché cominciano a scriverci, ci mandano mail. Tra l'altro tra poco ti leggerò anche una mail che abbiamo ricevuto piena di domande e al quale ho detto questo ragazzo dalla Sicilia, ci scrive, ho detto allora raccoglieremo queste domande e le faremo in diretta. Però per chi ci sta seguendo, tra l'altro Francesca Mattagli, ciao, bentrovata, scrivete le vostre domande così noi le raccogliamo e poi piano piano ci facciamo una discussione sopra. Siamo partiti subito parlando dei cesaroni, Marta, che ovviamente è una delle problemi... Andiamo, andiamo. Il tempo è poco, io vorrei raccontarvi talmente tante cose. Dai, partiamo dai cesaroni. Allora, partiamo da quello e poi ci spostiamo in altri meandri. Sti cesaroni, com'è successa questa cosa? Com'è partito? Allora, cerco di essere sintetica. Sì. Nella mia vita io ho fatto talmente tante cose, anche non solo davanti alla macchina da presa, e quindi ho anche avuto una società per nove anni, nella quale appunto facevano i provini dei cesaroni. Ma io ovviamente là dentro ero un po' nascosta, nel senso che non mi presentavo come attrice, in quanto ero la titolare di una società. Però che succede? Che la casting si è instaurato un rapporto di simpatia e lei decise di farmi fare questo provino per questo ruolo protagonista, perché poi entrava a sostituire, diciamo, Elena Sofia Ricci. Ovviamente il mio provino è stato fatto ad aprile e non è stato mai neanche visionato, cioè non proprio era assolutamente così, tanto per, perché cercavano chiaramente un nome. Adesso nel bene e nel male, non voglio entrare nel giudizio, però insomma un protagonista di una lunga serie è normale che si cerchi di prenderlo noto. Che succede? Che passano i mesi e non riescono a chiudere questa benedetta protagonista. Per cui si arriva a una settimana dalle riprese. Nel frattempo una che era stata scelta rimane incinta, un'altra aveva un altro lavoro che non si incastrava, un'altra non convinceva il cliente, cioè Mediaset. Insomma arrivano a una settimana dalle riprese che non avevano questa protagonista. Quindi erano in una riunione dove c'erano tutti i capoccia e a un certo punto non ne venivano fuori e la casting ha detto scusate, dice ma io avevo fatto un provino a un'attrice tanto brava che secondo me era giusta. E a me non la fa, chi è? Vediamo subito, dai prendete sta cassetta. Quindi il mio provino è stato visionato davanti a tutti, a Vicario, a tutti quanti, Publispey, Mediaset. E finito il mio provino hanno fatto. E che stiamo accettando? È lei. Avendola ha detto è perfetta, è lei, ma ancora stavamo a pensare che è. Basta, è lei. Quindi mi è arrivata una telefonata alle dieci e mezza di sera che mi diceva che ero la nuova protagonista dei Cesaroni. Che bella telefonata. Beh no, aspetta, aspetta, perché poi qui subentro ovviamente la... Io cerchiamo sempre anche di fare arrivare un messaggio a chi ci sta servendo. Io più che culo, che ovviamente è un fattore sul quale non ci si può lavorare, direi che hai fatto un ottimo provino. Cioè, il punto è che hai fatto un ottimo provino. Sì, tant'è vero che io, quando l'avevo fatto, dopo averlo fatto e dopo aver capito che il mio provino non sarebbe mai arrivato negli uffici giusti, ne avevo una copia e avevo anche deciso di farla scivolare in tasca da mendola in qualche modo, cioè avevo deciso di fidinarlo, di fargliela trovare al bar, in qualche modo, perché il problema era che oggettivamente anche io vedevo di essere giusta per questo provino e per questo ruolo. E qui infatti entriamo in un tema che a me piacerebbe affrontare, cioè il fatto che nella mia, ormai mi tocca dire, lunga esperienza, ho capito, e parlo solo per me però, perché quello che io capisco negli anni vale per me, non è detto che valga per tutti, non ci sono regole, che vanno bene i ruoli e poi vanno a buon fine e quando li fai sei soddisfatto del tuo lavoro, quando c'è una empatia tra me, Marta e il personaggio. Difficilmente sono riuscita a fare dei buoni provini o dei buoni lavori quando non c'era qualcosa di forte, un legame forte fra me e il personaggio, o se era troppo distante da me o se non condividevo le scelte. Insomma, quello che ho capito, che poi è quello che mi ha confermato vicario alla fine di tutta la serie, il regista, mi prese da parte e mi disse, Marta, hai fatto un ottimo lavoro, ma la cosa che ho apprezzato di più è che tu hai messo Marta dentro al ruolo di Emma, che può essere visto come un bene e come un male, come un limite per certi aspetti. Io non credo agli attori che possano fare tutto, che possono fare tutto, sono ben pochi, si contano sulla punta di una mano. Secondo me invece l'importante è trovare con cosa risuoni e puntare su un certo tipo di personaggi, questo potendolo fare, perché poi è chiaro che quando cominci ti appi tutto. Io mi sono ritrovata a 25 anni appena diplomata al centro sperimentale a fare delle fiction dove facevo una signora borghese con un figlio di 10 anni e un filo di perle al collo. Io ancora oggi quando vedo quelle fiction ho la pelle d'oca, hai brividi per quanto mi faccio orrore. Per cui secondo me la cosa importante, e lì sta anche nella bravura del regista, è scegliere l'attore giusto per il personaggio. Non devi faticare per fare un personaggio, secondo me. Allora... No, 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 è giustissimo quello... Vai Marta, vai tranquillo, perché sono chiacchiere informali, cioè il sottoitolo ce l'ho messo così che almeno uno lo sa. Intanto no, volevo vedere che salutiamo per esempio Mauro, Luca, Pazzona, c'è anche uno sguardo innamorato da parte di questa persona qua, che si... Firas, la hai la Firas. Eccola qui, la conosci? È un'amica tua? Non lo so! Sei stata bravissima. L'ultimo anno ho girato in giro per il mondo, ho collezionato amici da tutto il mondo. Da tutte le parti. Senti, ma due cose veloci. Tu ovviamente dicevi, ormai è una lunga carriera, no? Perché effettivamente tu parti piccolissima, giovanissima. Tra l'altro tu hai lavorato anche con un gigante della storia italiana che è Domenico Modugno. Ti ricordi qualcosa di quando eri, di quell'esperienza lì? Ammazza, sei andata a pescare proprio la più lontana. Perché lì, in quel film, si chiamava Il Maestro di Violino, ci lavorava mio fratello. Perché mio fratello è stato, diciamo, la pripista. E io lì sono stata reclutata proprio al momento. Cioè, doveva fare questa entrata una bambina in una scena e hanno detto perché non lo facciamo fare a lei. Quindi, credo avessi come... Quattro anni. Per cui ho il ricordo vivido della sua presenza. Perché comunque aveva uno sguardo magnetico, ricordo i baffi, ricordo di stare alla sua presenza. Però, oggettivamente, il set e tutto quanto... E le cose, tutti i ricordi. E invece di Tre Fratelli, di Francesco Rosi... Tre Fratelli già è un'altra cosa. Perché lì ero, diciamo, tra i protagonisti. Quindi è stato un lavoro lungo. C'è stato lavoro con il regista. Poi non eravamo a Roma. E come tu sai, quando un attore lavora fuori da casa propria, si crea veramente una sinergia, un gruppo che lavora insieme la sera, si sta insieme a cena. Io avevo molte scene con Michele Placido, per cui si è restaurato un rapporto forte con Michele. Con Rosi vi posso raccontare un aneddoto. Vai, spara! Un po' mi vergogno, però, quando si è piccoli, tutto è ammesso. Quanti anni avevi? Quanti anni avevi? Era dell'81, io sono del 72, quindi nove anni. Nove anni, ho detto bene? Sì. Nove anni. Otto, nove anni, forse. È uscito l'anno dopo, quindi sì, otto anni quando l'ho girato. Allora, Rosi andavamo sempre molto d'accordo, lui è una persona deliziosa, veramente. Però io un giorno avevo una scena in cui dovevo piangere. Quella mattina arrivo sul set e Rosi era particolarmente freddo e distaccato. Mi tratta male, mi saluta in maniera così veloce e mi comincia a dire dai su, allora hai studiato, la sai questa scena, la sai fare? Lui, povero, come dicono i siciliani mischino, lui pensava che trattandomi male io mi sarei agitata e avrei più facilmente pianto. Invece io lì ho capito, e questo poi mi è servito di lezione, che con me non servono i metodi duri, perché io mi sono piantata tipo somaro. Cioè proprio non riuscivo, non facevo la scena, non facevo quello che mi chiedeva. Per cui lui ci ha provato in tutti i modi, ha strillato, ha urlato, alla fine ha deciso di abbandonare il set, ha detto basta, mi hai stufato, fatela da sola questa scena. Ha preso ed è andato via, ovviamente per finta, poi è andato ai monitor. E io a quel punto, allora mi sono sentita padrone della situazione, ho fatto la scena, la scena che poi vedete nel film. E lui questo lo raccontò in conferenza stampa al Festival di Cannes, dicendo, lui sosteneva che io fossi già una diva consumata da due anni. Quindi di te non ha funzionato il metodo De Sica, il famoso metodo di Vittorio De Sica con il ladri di biciclette, che per far piangere il piccolo nel finale lo chiama Ciccarolo, no? Questa legge, questa storia che ti viene leggendo. Guarda, all'epoca si usava molto e a me fa piacere di poter portare questa testimonianza perché nonostante sembri, insomma, sono ancora giovane, però in realtà ho vissuto un certo tipo di cinema, ho lavorato con Steno, ho lavorato con dei grandi del cinema di una volta ed era un po' un must quello del regista cattivo che fa piangere le attrici, che le schiaffeggia per tirar fuori delle reazioni spontanee. Io ho capito che gli esseri umani si dividono in due categorie, forse quelli che usano, che hanno predominanza del cervello destro e quelli del cervello sinistro. C'è chi ha bisogno di sentirsi sostenuto, accolto e spinto a dare il meglio e chi invece ha bisogno della sfida, cioè di avere un ostacolo, di avere qualcuno che tenta di affossarti per tirare fuori quella grinta. Ecco, io non sono di questa categoria, io ho bisogno della dolcezza, del tempo e del sostegno. Quindi anche questo è molto importante secondo me per un attore, capire che tipo di attore si è. Assolutamente, intanto arrivano dei complimenti, Pierluigi ci scrive bellissima Marta, ciao. Allora sto barrocchiere ha funzionato. Ha funzionato, ma va, che sei bellissima anche così. Mirko Cancitano che è uno degli attori di Estat che ci segue ci manda un saluto. Salvatore, tornitore ci dice vi seguo dal lavoro e allora andiamo a parlare un attimo al volo di Salvatore e poi torniamo magari a fare un po' un check perché Salvatore è uno di questi attori che ci sta seguendo anche in giro per l'Italia. Quindi sapere che ho un blocco di attori a Roma, un blocco di attori che viene da altre parti per lezioni di Estat e poi attraverso questa rubrica che prima di prima stiamo portando avanti perché ci diverte, è divertente chiacchierare così anche perché poi alla fine se non chiacchieriamo così ma quando ci incontriamo a poter parlare del mestiere, no? Perché fondamentalmente come funziona? Siamo tutti un po' chiusi nel segreto delle nostre stanze, non vogliamo per carità che si sappia cosa si fa, cosa non si fa, cosa si dice, cosa non si dice e poi alla fine si dice e non si fa ma in gente cioè ti ritrovi che poi alla fine effettivamente della professione non si riparla mai e invece quindi questa rubrica nasce in questo scopo. Sull'onda di questa visione ti leggo un attimo una domanda che Salvatore Tornitore proprio, ma ci ha scritto tramite un'email e io gli ho detto guarda Salvo, facciamo una cosa, a questa domanda io la leggo, ne ha fatte diverse e te ne giro una. Allora, vediamo un po'. Ha cominciato da poco, ha cominciato a fare le cose, mi ha girato anche un self tape costruito, devo dire che c'è del materiale interessante il ragazzo, anche se appunto ha cominciato da poco e sta cercando tra l'altro appunto mi dice un'agenzia. Allora, aspetta perché qui dice questa cosa qua. Ecco, leggendo sul web quasi tutte le agenzie richiedono del materiale artistico e molti chiedono se hai avuto esperienze cinematografiche. Ecco, la mia domanda è questa, se tu rispondi di no quasi subito ti scartano senza nemmeno testarti. Ma allora, come iniziare? Come si inizia? Effettivamente uno dice ma guarda, allora mandami il materiale, ma se uno il materiale sta all'inizio e non ce l'ha, come si fa? Mamma mia, che domandina! Ma tu pensavi che venivamo qui e invece è bella perché cioè, come si fa? Oh ma è anche magari prova a darci, cioè non è che esiste una soluzione, ma che magari esiste una tua intuizione. Allora, io se riesco a non cappottarmi dalla sedia, allora, allora, io ti posso dire quello che ho fatto io. Anche se la mia esperienza non è tanto da prendere ad esempio perché appunto avendo cominciato da piccola io sono praticamente partita avendo già un curriculum che faceva invidia ad attori professionisti, per cui non mi sono mai trovata in quella situazione, cioè io quando ho fatto l'esame per il centro sperimentale ho portato cinque videocassette di miei film per l'ammissione, quindi capisci che avevo già fatto, però, detto questo, purtroppo la situazione credo che sia sempre più difficile. io ho cambiato agenzia adesso da poco e ho avuto grandissime difficoltà a trovarne una, cioè, anch'io mandando una mail dicendo solo Marta Zoffoli, parapà, parapà, questo è il mio curriculum, ho ricevuto praticamente quasi tutti no. Alla fine adesso ho un agente perché siamo amici e mi ha detto sì, vabbè Marta non ti preoccupare, ti seguo io. Quindi io non lo so immaginare, però, secondo me l'importante è cercare di stare sempre sul pezzo, vale a dire, è un equilibrio molto difficile perché bisogna evitare di essere dei rompiscatole perché veramente poi la gente vi rifugge, se vi fate la nomea di quelli che rompono i coglioni, si può dire, questo non va bene, per cui non piombare negli uffici a cavolo, non monopolizzare una persona, magari un regista, un produttore, se lo incontrate appiccicandovi addosso, però sicuramente cercare delle strade alternative, quindi attaccarsi a qualsiasi gancio possibile, cioè qualcuno che conosce un casting, ok, chiedere di essere presentati, cercare continuamente perché per esperienza personale ho visto che le cose sono arrivate sempre, sempre, sempre le cose più belle in maniera casuale, io il mio primo bel ruolo lo ottenne perché sbagliai stanza, lo so che questi racconti possono dare fastidio perché uno dice ma io come posso costruire, fare un progetto di vita sul caso, sbagliare la stanza è sul caso, sbagliare la stanza, però invece è importante sapere che molto spesso le cose arrivano così, quindi non avere l'atteggiamento deluso costantemente perché l'occasione può essere dietro l'angolo, insistere, insistere, chiamarle tutte le agenzie, cercare, poi voglio dire all'epoca mia era veramente difficile perché se volevi farti un video non c'erano i cellulari e nessuno di noi possedeva una telecamerina per cui era quasi impossibile l'unico modo era telefonare e mandare delle foto non ce n'era un altro e sperare che solo sulla foto volessero vederti non c'era mandare il video via internet non esisteva quindi adesso dobbiamo pensare che ci sono molte più possibilità rispetto a quelle che avevamo noi per cui io trovo che sia fantastico quello che fa Daniele ma non solo lui di girarsi delle scene di buona qualità perché intanto quello del materiale che tu puoi far vedere voglio dire il curriculum non te lo puoi inventare se non ce l'hai non ce l'hai quindi in qualche modo devi cominciare io ho cominciato facendo piccole cose a teatro agli off 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 i vari ridotti del Colosseo dei Satiri tra amici pubblicità cercando di fare provini di pubblicità perché quelli insegnano tanto e così avere una grande tenacia che prima o poi qualcuno ci casca se può tornare utile sempre per il buon Salvatore una cosa che invece è totalmente nelle nostre possibilità tu lo sai a me mi piace molto questo aspetto pragmatico di fare in modo che comunque ci sia sempre una parte di tutta questa professione che non dipende totalmente da noi però mi piace sempre riuscire a preservarmi uno spazio un luogo in cui invece ci siano una serie di attività e di azioni che dipendono solo da me e per esempio per un attore che sta cominciando come dicevi tu anche prima oggi più che mai è quanto mai facile poter creare del materiale video ora questo cosa significa significa però che dietro devi saperlo costruire perché ovviamente tutti mandano ormai materiale di pessima qualità allora due o tre cose che noi facciamo in estate che mi sento di consigliare in generale sono che ormai è molto semplice poter trovare appunto anche un telefono cellulare che faccia dei video di ottima qualità una buona illuminazione e un buon audio questi sono gli aspetti tecnici ci devi mettere poi gli aspetti artistici dell'attore e quindi scusa Daniele il fatto che si partisse da qualcuno che studia già però sai secondo me sta anche cambiando un po' questa questa quest'onda il nostro mestiere non ha mai premiato esclusivamente il talento ha molto spesso invece offerto grandi chance a chi si è lanciato a chi ha avuto il coraggio di osare allora a me piace combinare queste due facce della medaglia quindi mi piace combinare la preparazione a però un attore o un'attrice che abbia il coraggio di osare perché se no ci si ritrova adesso farò un post ci si ritrova un po' attori da laboratorio cioè un po' come i topi da laboratorio e ci si ritrova a essere attori in costante fase di studio senza mai sentirsi pronti per lanciarsi e questo un po' l'ho visto l'ho visto in tanti attori perché lo switch che c'è tra studiare per migliorarsi e studiare perché non si ha il coraggio poi di fare quel salto e dire ora mi lancio una professione è sottile molto spesso invisibile e molti trainer ci fanno le loro vite ci costruiscono le loro carriere su questo tipo di attori a me questa cosa non è mai piaciuta né da attore né da trainer ovviamente e quindi in qualche modo mi sento di dire a chi ci sta seguendo che ci sono una serie di cose che possono fare che dipendono da noi e che dal mio punto di vista la cosa interessante è proprio questo balance che c'è tra una preparazione e il coraggio di osare di sbagliare cosa che faccio costantemente anche io io costantemente anche questa nostra rubrica o il mio modo adesso di utilizzare i social le cose che sperimento di esplorare sono sempre grandi esperimenti posso fallire molti sono anche falliti ma il punto però è che comunque almeno non rimango fermo e tutto quello che posso fare cerco di metterlo poi al banco di prova per vedere cosa ne esce fuori tu per me sei fantastico quindi lo sai che quello che fai secondo me è preziosissimo non c'era e mancava io sono assolutamente d'accordo con te da subito quando mi sono trovata a insegnare la prima cosa che ho detto è studiate poi una volta che vi siete fatti diciamo una formazione decente basta cioè nel senso cominciate a lavorare poi c'è il mantenimento ma bisogna cominciare a lavorare io personalmente anche perché anche perché no e ti lascio finire anche perché alcune alcuni insegnamenti non te li dà nient'altro che il viverli nella professione non ti ricordare una scuola bisognerebbe poi fare proprio dei discorsi separati quando si sta parlando di formazione e quando si sta parlando di lavoro perché sono due mondi completamente diversi cioè non ci può essere il secondo senza il primo secondo me o quantomeno è meglio avere comunque una base di formazione perché se no sei troppo inconsapevole io ad esempio quando mi sono diplomata al centro sperimentale la strada che ho scelto era quella di fare tutto il più possibile cosa che mi veniva anche criticata da molti colleghi perché sai esci da una scuola di cinema dici voglio fare l'attore voglio scegliere i ruoli voglio impostare una carriera invece no io facevo dalle telepromozioni al runner cioè io ho fatto il runner sui set ho portato i caffè ho fatto il driver ho fatto il microfonista ho fatto l'ispettore di produzione ho fatto il montatore ho fatto tutto perché io volevo proprio imparare a conoscere bene la macchina cinematografica perché molto spesso l'attore è troppo inconsapevole deve avere una parte inconsapevolezza ma troppo inconsapevole no cioè devi sapere anche quali sono i bisogni degli altri cioè deve essere un team che lavora molto spesso invece ci sono attori che sono zavorre sul set perché perché non si rendono conto proprio delle necessità degli altri e quindi io ho scelto un tipo di formazione di questo tipo cioè facevo di tutto e molti mi dicevano sbagli perché sai se fai la pubblicità inflazioni ma beh che quanto mi ha insegnato fare la pubblicità per cui il mio consiglio è fare tutto cercare ogni strada doppiaggio io andavo a fare i turni di brusio e intanto vedi come doppiano i grandi io sono di questo avviso con umiltà fare tutto sto preparando tu prepara io vado avanti fare tutto per imparare tutto hai messo tutte le cose sono precisetti sono precisetti tu lo sai quanto mi piace a me questa cosa come ho saputo che ci saremmo incontrati io mi sono tirato giù tutta una serie di cose che anche se poi non riusciremo ad affrontare tutte ma servono a me io ad esempio quando lavoro su un personaggio io scrivo scrivo molto ho tutti i quadernini del personaggio ok allora guarda arrivano cominciano a scrivere delle cose allora andiamoci a vedere allora qui c'è Luis Marano che ci scrive proprio così infatti prima parlavamo di come affrontare questa professione se con dolcezza o come una sfida e questa è una cosa interessante c'è Luis che è un altro degli attori che studia in Estad che ci dice che invece per lui funziona molto il concetto della sfida e c'è Achille Marciano che ci saluta tra l'altro sarà nelle sale con un film che è la Banda Grossi al cinema e film che abbiamo anche lavorato insieme in Estad poi c'è Loi Ray ciao Lori ciao Lori allora poi aspetta perché in diretta invece vado a leggere una domanda molto lunga che ci arriva Valeria Rossitto allora fa così vediamo un po' se riesco a leggere il volo ciao Marta purtroppo non ho modo di guardare tutta la diretta ma quel poco che ho visto è stato molto utile non sono un'attrice ma molto di ciò che hai detto dall'empatia al superare il fallimento e sfruttarlo per tirare fuori la grinta sono elementi da applicare anche in altri ambiti sia per chi continua a lavorare nell'ambito artistico anche figurando come tecnico di supporto che nella vita in generale penso che anche gli attori che vogliono arrivare in cima è giusto che entrino in extremis dalla porticina sul retro perché se c'è talento uscirà fuori non ti conoscevo sotto questo aspetto e sono veramente contenta di essere capitata casualmente in questo post come te nella stanza spiata il giorno del provino giusto in bocca al lupo per tutto e grazie a entrambi per queste dirette ciao hai visto che bel messaggio di Valeria Rossini che bello veramente grazie grazie dei feedback sono importanti guarda ho messo il messaggio in diretta e ci ha cancellato ok è sicuramente un bellissimo messaggio cara Valeria sono contento anche di appunto che queste dirette di post sono utili è molto bello perché appunto scrive che si è ritrovata nella stanza sbagliata però appunto il giorno del provino giusto però si è ritrovato nelle due stanze sbagliate perché qui in realtà è venuta a casa mia e a casa tua e quindi questo allora un'altra domanda al volo senti Marta un'altra cosa importante il rapporto con i big i grandi big no? che è una tematica che nessuno affronta mai cioè cosa accade quando si confronta con i grandi facciamo due nomi Woody Allen Roberto Benigni ora voglio dire come come si fa come ti sei sentita come ti sei trovata cosa può tornare utile sapere a un attore giovane quando si ritrova in certi contesti in certe situazioni l'ansia da prestazione la paura sarò all'altezza non sarò all'altezza ti hanno ti hanno aiutata ti hanno coperta se si può dire non si può dire insomma vai raccontaci un attimo di guarda allora tu aspetta il film è Tu room with love dove interpreti questa diva del cinema italiano meravigliosa no scelta poi proprio apposta da Woody Allen vedi quando ti dico che la cosa migliore è quando un regista ti mette nel ruolo giusto lui aveva visto in me una grande diva hollywoodiana no adesso fatti gli scherzi lui mi ha visto così perché vabbè ci sono dei retroscena sul provino però senza dilungarmi troppo allora il tema del confronto con i grandi big tu non ci crederai Daniele ma me l'hai sottoposto tu per la prima volta cioè io non ci avevo mai pensato ero sempre molto concentrata sul mio lavoro di attore o sul lavoro che uno deve fare per cercare lavoro la dinamica col big in effetti io non l'avevo mai analizzata e da quando me ne hai parlato tu mi sono resa conto di quante volte io mi sono sentita un po' vittima dei big non è stato il caso di Woody Allen e Roberto Benigni è stato il caso di altri grandi che chiaramente non nominerò però tu Daniele insomma sai bene perché mi hai anche aiutato capita di lavorare vicino a dei grandi attori che ti comandano cioè semplicemente ti dicono tu mettiti lì di questo fai così e generalmente lo spazio è talmente il tempo è talmente poco che tu fai fatica a conquistarti il tuo spazio quindi quello che succede è che molto spesso ti ritrovi a fare il cagnolino il servente del grande nome e ahimè mi tocca dire che questo mi è capitato molto più spesso in Italia all'estero difficilmente cioè adesso era uno spot pubblicitario quello con Banderas però io avevo Banderas che faceva amiciac e mi diceva che dici come ti sembrava questo per dire no dunque Woody Allen Woody Allen io non me lo sarei mai immaginato così era veramente un nonnetto che si aggirava per il set che veniva complice strizzava l'occhiolino faceva battute a me mi ha preso in giro dall'inizio alla fine per cui però la cosa bella probabilmente è stata io ci sono arrivata incredibilmente sicura a quel ruolo perché per una volta tanto io lì mi sono sentita proprio voluta cioè io andai a fare un provino che era un'improvvisazione dopo il provino mi dissero che non c'era un ruolo su cui propormi nella sceneggiatura che però siccome avevo fatto un buon provino sarebbe stato mandato a Woody Allen Woody Allen ha telefonato dicendo questa attrice mi piace bloccatela contrattualmente non so ancora cosa le farò fare ma qualcosa le faccio fare quindi l'idea che lui abbia scritto quel piccolo personaggio su di me già mi faceva sentire sicura poi una costumista pazzesca uno staff Alberto Mangiante aiuto regista che credo sia veramente uno dei migliori io mi sentivo in una macchina di alto livello e quindi mi sono sentita una Ferrari e così è andata Roberto Peligni e me ne sono innamorata perché io ho visto una persona esattamente così come la vedi in televisione cosa che invece molto spesso capita che personaggi che sono molto alla mano che sembrano molto comunisti così poi li conosci di persona e sono scostanti fascisti cioè proprio un'altra cosa uso la parola comunista e fascista non in senso politico ma in senso più generale e quindi no Benigni fantastico cioè seduti per terra sugli scalini a raccontarmi mi ha chiesto tutto della mia vita dove sono che faccio dove abito abbiamo parlato di poesia mi ha detto a memoria versi di di Marinetti insomma meraviglioso io non ci potevo credere eh beh eh beh quindi insomma una delle secondo te cosa ti a me piace sempre che da queste chiacchiere al di là che è già interessante riuscire a conoscere questi aspetti di un artista o di un professionista come te però la cosa che mi piace poi è che fare un po' un quid in più rispetto alle interviste di Verissimo e cioè quella di riuscire a dare anche visto che il nostro pubblico è così specifico tra l'altro salutiamo Vito Acquaviva che ci dice buonasera buonasera anche mio papà che ci segue eccolo qua eccolo qua buonasera allora per un attore appunto che comincia che consiglio daresti appunto nel caso in cui abbia un confronto con un big perché questa è la domanda che io ti avevo fatta eh eh a sapere se vuoi se vuoi io ce l'ho se vuoi io ce l'ho ma magari ma dammela tu a me che io ancora non ho capito come si fa che sono sostantemente vittima di questi attori egocentrici che palle scusate non dare troppa confidenza ecco ecco perché poi numero uno dipende molto da come uno è fatto no io ti o te siamo persone molto espansive ci piace ma io tendo all'empatia a me piace l'idea che ci si diverta sul set a volte in alcuni casi è bene magari non dare troppa confidenza magari all'inizio e poi nel finale puoi fare non so io ho provato queste cose ultimamente ma io torno anche a te del consiglio perché ad esempio in una nota fiction io al primo giorno di lavoro con il mio protagonista ho detto allora questa scena dico io dunque questa battuta posso di e lui non mi ha fatto neanche finire mi ha fatto no senti per carità non cominciamo a cambiare battute per favore di quelle che sono scritte ecco ecco come lo instauri un rapporto empatico partendo così beh hai sbagliato hai sbagliato la partenza perché l'errore è come l'hai messa è come l'hai messa cioè è tutto lì bravo dunque è chiaro guarda io sono arrivato a un'altra conclusione infatti questa per me cioè tu sai quanto io sia maniaco e mi piacciono trovare comunque delle linee guida e delle regole in realtà poi poi più avanti più scopri che esistono dei dei macro temi ma poi la vita questa professione è talmente piena e talmente tante variabili che io allora adotto proprio la parola non lo so cioè mi alleno al non lo so non lo so però vuol dire oi non lo so però faccio di tutto per farla funzionare ok quindi vuol dire che guarda aspetta fammi finire il concetto perché sennò sembra vuol dire che mi arrivo ad allenarmi a talmente tante variabili che poi mi vivo l'avventura della diretta e in qualche modo perché sempre credo fortemente nella preparazione confido nella mia preparazione confido nel fatto che se ho lavorato bene su di me sul testo sul mio personaggio se ho lavorato bene come persona se non sono un testa di sai di questo se ho lavorato bene su queste cose mi posso anche affidare a quello che accade nel momento piuttosto che troppo prepararlo da casa perché poi sappiamo bene che adesso ne parlavamo anche con Giovanni Sifoni qualche settimana fa noi siamo attori meravigliosi perché ci mettiamo lì l'attore in generale si fa i suoi film le sue immagini e poi quando arriva su un set questa questa immagine che si è creata non corrisponde mai alla realtà di quello che succederà su quel set quindi 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 quello che mi piace a me che mi funziona a me quello che è anche difficile da raccontare è che non lo so non lo so domani cosa accadrà non lo so domani come accadrà quel rapporto quella cosa so solo che ho lavorato al meglio che posso per far sì che la faccio funzionare e poi alle volte funziona altre volte altre volte no infatti guarda tu mi hai portata al tema che poi è quello che amo di più e cioè la virata che ha preso il mio modo di lavorare da un certo punto in poi quando ho cominciato a studiare gestalt prendendo un master in gestalt adesso senza dilungarmi su che cos'è però è un lavoro che si fa partendo dal sentire corporeo cioè essere nel qui e ora con quello che si sente cosa c'è allora io mi sono talmente invaghita di questo concetto che ho voluto applicarlo al mio lavoro quindi questo fa scopa con quello che stavi dicendo tu siccome la domanda che mi avevi fatto tu mi portava più alle dinamiche fuori dal set che sono importanti cioè la dinamica di potere che c'è fra te e l'attore protagonista io su quello sono sempre stata piuttosto pippa e il consiglio che dai tu cioè di tenere una distanza mi sembra eccellente eccellente perché se uno si pone in maniera subito troppo no alla cioè lì a chiedere cosa cosa ti serve ti esponi anche a essere poi trattato da servo io credo questo e sì scusami benissimo invece per quanto riguarda il lavoro cioè mentre ti recita tutto sommato tutto quello che tu puoi pensare sia un ostacolo invece può diventare benzina perché usare quelle sensazioni che l'altro ti genera anche se inizialmente sembrano non essere giuste per il personaggio invece aiutano a colorare perché tutti noi siamo fatti di più sfumature di più emozioni una scena d'amore può tranquillamente contenere della rabbia sotto può contenere dell'invidia può contenere un gioco di potere per cui usare tutto quello che c'è ma che c'è come Marta in quel momento ho il fastidio di lavorare con quest'attore ad esempio lo uso nel personaggio lo metto nella scena allora a quel punto ragazzi diventa un lavoro meraviglioso perché intanto come dicevi tu non è un lavoro che tu puoi preparare a casa esatto tu puoi arrivare con le tue borse di strumenti e col tuo cuore aperto ma poi la cosa succede lì succede lì con quello che c'è su come stai quella mattina su boh quello che ti arriva anche dal set dall'energia delle altre persone cioè l'importante quello che ho capito io è non censurarsi non censurare pensieri o emozioni che arrivano pensando cazzo questo non c'entra niente cazzo questo mi porta fuori no io in questo momento devo sentire questo no vaffanculo sento quest'altro lo uso cioè no è un colore che ho sulla tavolozza cioè devo fare questo quadro però oggi ho tutte sfumature di verde e vorrà dire che farò questo bellissimo quadro verde adesso chiaramente questo va inserito solamente per quello che riguarda il lavoro della scena ma non si può perdere di vista quello che è l'arco del personaggio durante tutto il lavoro e qua infatti ad esempio c'è una grande differenza tra come lavoro a teatro e come lavoro sulle lunghe serie ad esempio perché a teatro tu puoi permetterti di vivere una vita diversa ogni sera pur mantenendo l'obiettivo però puoi dare una sfumatura tutta verde tutta rossa tutta gialla diciamo così quando fai una lunga fiction devi stare molto attenta perché se no sembri completamente pazzo completamente scollegato non ti tornano i passaggi temporali del personaggio i raccordi è fondamentale è fondamentale la grande preparazione io faccio dei papelli così di tutta la continuità del personaggio da dove vengo dove vado perché insomma non lo sai io ho avuto la fortuna di fare lunghe serie con personaggi protagonisti squadra antimafia squadra mobile cesaroni e lì è così cioè ti arriva la convocazione la sera prima che ti dice no non giriamo la 18A ma giriamo la 49B e tu stai proprio completamente al personaggio nel frattempo è successo una roba assurda quindi giri vicine scene che hanno emozioni obiettivi completamente diversi quindi lì tu per me devi essere una macchina da guerra ci deve essere un lavoro fatto a tavolino io avevo la segretaria di edizione che ogni tanto chiedeva a me cioè ci confrontavamo perché avevo il mio quaderno con tutti i raccordi del personaggio da dove viene cosa fa cosa vuole questa cosa è già successa questa cosa deve ancora succedere questa cosa la sa qui non la sa è un lavoro quasi da manuale su questa cosa allora perché raccontiamo anche a chi ci sta seguendo molto spesso soprattutto nelle serie televisive succede che è tutto un work in progress molto spesso addirittura arrivi la mattina in camerino hai gli stralci di scena e magari sono molto diversi rispetto a quello che hai visto la sera prima cioè fondamentalmente ti dicono domani per l'ordine del giorno ci sono queste scene qua tu te le studi te le prepari poi arrivi sul set e magari il regista se è un regista attento magari ci ha lavorato e ti ritrovi delle scene che alle volte sono anche molto diverse battute in più battute in meno delle scene in cui c'eri in cui magari fai cose diverse eccetera una storia che mi ha fatto capire sono stato molto fortunato perché io ho fatto il centro sperimentale come te e poi come primissima esperienza per il cinema io debutto al cinema con Michele Placido e Michele Placido mi mette accanto il primissimo giorno di set accanto a Luca Argentero e il mio personaggio è sempre accanto a Luca Argentero perché nel film Il Grande Sogno insomma siamo comunque facciamo parte dello stesso movimento studentesco perché racconto questa storia perché lì ho imparato una di queste cose che poi sono diventate per me un mantra cioè la flessibilità la capacità di integrare nel tuo lavoro gli input che ti arrivano all'ultimo e senti qui perché io ero fresco fresco di centro sperimentale alla mia prima esperienza di cinema con Michele Placido che veniva dopo il romanzo il romanzo criminale quindi era un momento incredibile di questo nostro cinema di Michele Placido io arrivo e ho questa cosa il primo giorno sono accanto a Luca Argentero Luca Argentero aveva un monologo io sapevo tutto di tutti perché ovviamente all'inizio capisci se mettevi lì imparavo le cose e Michele Placido arriva e gli comincia a cambiare in diretta delle cose importanti di questo monologo adoro io adorerei aspetta guarda Luca non me lo scorderò mai io glielo ho detto anche fa ok scusate Michele era lì in fase creativa che lanciava parole delirio creativo meraviglioso e Luca non perde la calma e fa scusate qualcuno ha una penna si fa dare una penna era una big blue non me la scorderò mai dove sta e comincia a segnare le cose che gli diceva Michele ma di lì a due minuti avrebbero girato ok Luca in una calma serafica si prende gli appunti io che sudavo freddo per lui e lui tranquillissimo prendeva appunti se gli scriveva le cose poi Michele diceva aspetta che ho detto qua e lui diceva hai detto questo poi ovviamente alle volte doveva rielaborarle doveva insomma nel giro di quattro minuti gli riscrive completamente il monologo un minuto dopo Luca lo deve fare e lo ha fatto ed è nel film meraviglioso e io lo guardo e gli ho fatto ma Luca ma come hai fatto e lui mi fa vedi che allora un po' di anni di tv servono perché veniva da carabinieri io l'ho conosciuto su carabinieri aveva lavorato tanto tempo su questa cosa di cambiare al volo flessibile 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 e io ecco in quell'occasione ho avuto proprio la conferma sul campo è fondamentale è per questo che a un certo punto bisogna imparare ad abbandonare lo studio e cominciare a vivere il mestiere dell'attore però dall'altra parte assolutamente dall'altra parte quello che poi ho appreso e ho capito è perché era così tranquillo perché lui aveva lavorato bene di preparazione sul suo personaggio sapeva bene chi era e dove doveva andare quindi ora doveva sempre dire delle cose diverse per questo non era per nulla agitato perché lui sapeva esattamente aveva costruito bene quindi ora se devo dire questo piuttosto che quest'altro che differenza fa io so chi sono ed è questo quindi ora un gran balance del lavoro e che cerco anche di portare avanti infatti quando si parla appunto di lavoro preciso e minuzioso per me è proprio io difficilmente provo le scene a voce alta a casa cioè per me c'è un grande lavoro di intanto ricerca di essere sicura di aver sviscerato tutto quanto di aver chiaro l'arco del personaggio io molto spesso quello che faccio è ripeterle silenziosamente le scene perché addirittura io non mi voglio neanche affezionare al mio tono di voce cioè non ho voglia di fissare niente devi fissare le tue certezze rispetto al personaggio cosa vuole dove va e tutto bla 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 quello che sappiamo e quello si acquisisce con lo studio ma dopodiché come dici tu ti può succedere veramente che tu arrivi sul set il regista o il regista o l'attore per un qualsiasi motivo ti danno le battute in maniera completamente diversa e allora lì la grande magia del nostro mestiere è quella cioè interagire veramente essere presenti secondo me sta tutto là cambia proprio la qualità del lavoro se ragiono così cosa ti aiuta per concludere perché questa è una parte interessante in cui c'è tanta solfa che riguarda il lavoro cosa ti aiuta a rimanere concentrata per tante ore quando vivi su un set e cosa ti aiuta a rimanere presente allora sicuramente delle volte quando ne ho bisogno mi scelgo la musica mi scelgo il profumo cioè tutte cose sensoriali che ti aiutano rapidamente a riconnetterti quando sei a casa che studi se tu agganci una musica a una determinata scena poi ti aiuta avere un richiamino e poi soprattutto quello che a me aiuta è il fatto di cercare di non stare aggrappata con i denti e con le unghie alla concentrazione o a quell'emozione facciamo un esempio la cosa più difficile che spaventa tutti e che terrorizza anche me no? dover piangere una scena dovevi piangere generalmente il primo ciak lo fai da dio lo fai da dio perché arrivi carico a pallettoni e quindi buah fai queste scene madri il problema è quando poi tu devi cominciare a ripetere questa cosa è difficile per tutti per cui tutti noi abbiamo nel nostro curriculum una scena di pianto dove viene montato il quindicesimo ciak e tu c'hai il mentolo negli occhi per cercare di spremere una lacrima però detto questo io ho notato che facevo molta più fatica quando cercavo di restare aggrappata alla commozione anche tra un ciak e l'altro quindi quello che voglio dire non è che bisogna deconcentrarsi e cazzeggiare bisogna cercare di restare un attimino concentrati ma anche essere capaci di fare un refresh tra un ciak e l'altro cioè in qualche modo un pochino rilassarsi un pochino abbandonare la cosa perché quello che funziona per me è la freschezza cioè che la cosa succede in quel momento per cui ho notato che più sto tranquilla e più mi aggancio all'altro al partner alla scena e più è facile che io riesca a ritrovare quella genuinità quindi appunto io faticavo molto per cercare di stare attaccata all'emozione invece no se tu te la scrolli di dosso e ricominci è facile che il processo si rinneschi assolutamente assolutamente quello che succede un po' a tutti noi è che ci piace poi rimanere un po' aggrappati a quell'emozione a quella cosa a non perderla e poi succede che magari poi ecco magari quel personaggio te lo devi portare anche per un lasso di tempo lungo e allora hai proprio paura a doverlo abbandonare ma quelli subentrano anche dinamiche che ognuno poi è interessante perché che se ne dica poi ognuno per funzionare deve trovare la propria strada puoi eseguire anche il metodo che più proprio però però a un certo punto i metodi ognuno di noi deve trovare la propria strada i metodi ci aiutano a trovare degli spunti degli esempi degli appunti cioè delle cose che ci possono aiutare nei momenti di difficoltà delle cose che ci possono sbloccare quando magari siamo un po' bloccati ma poi per il resto ecco vedi che è interessante ma servono nello studio cioè Daniele quando studi devi assolutamente avere gli strumenti cioè per la fase di studio bisogna fare così e che vanno poi abbandonati nel momento che lavori poi quando arrivi là e devi riuscire a completare questo viaggio che è fatto poi di mille altre persone tra cui ovviamente pensa con quante persone ci interagiamo se ci pensi da altro col parrucco i costumi la regia e via di scorrere guarda Elda l'altra volta ha citato una cosa che sembrava una cosa frivola invece a me è successo di avere un personaggio che è in grave difficoltà per colpa della parrucchiera cioè non sono stupidaggini no no veramente tu a casa ti prepari i lavori e poi dopo il tuo problema sul set sarà la parrucchiera questa è la vera professione può succedere oppure può succedere che invece la parrucchiera te lo risolve perché il nostro caso il nostro campo è proprio quello che l'abito fa il monaco e in molti casi il personaggio puoi preparartelo quanto ti pare a casa con i tuoi appunti ma poi quando arrivi lì e ti mettono quel costume quel capello è lì che magari il miracolo accade Ian McKellen Gandalf lo ha trovato così quando è arrivato sul set lo dice sempre lui nelle sue interviste gli mettono il cappello la barba ha fatto ha trovato la voce di Gandalf no infatti la cosa la chiave di tutta la nostra chiacchierata è quello che hai detto tu cioè lasciarsi liberi di interagire con quello che succede con quello che c'è lì al momento avendolo però fortemente allenato perché è vero che Ian McKellen arriva lì e la voce la trova mettendosi un cappellaccio ma quella voce l'aveva allenata e soprattutto non solo la voce ma la sensibilità per poter far sì che quel cappello lo seducesse a tal punto da costruire un personaggio cioè c'è un allenamento dietro quindi è chiaro che poi allora lui dice l'ho trovato quando sto lì di fronte ma ha uno strumento talmente allenato che si può permettere di arrivare su un set mettersi un cappello e farsi costruire il suo mondo semplicemente da questo quindi è proprio la è proprio la combinazione delle due cose almeno questo è ciò che a me piace questo è ciò che mi affascina questo è quello che mi piace anche da quando lo vedo nei colleghi negli altri colleghi perché poi si riconosce quando c'è chi lavora giusto vuol dire anche chi lavora perché gli è venuto e chi lavora invece perché gli è venuta ma l'ha costruita in questo senso sì allora sono molto più affascinato quando non sei realmente così ma ci sei arrivato piuttosto che sei così certo sono d'accordo che mi piace comunque oh Martolina noi abbiamo parlato per quasi un'ora il che è stato meraviglioso sembra così poco però dobbiamo chiudere perché se no poi noi abbiamo poi tutte le nostre cose vedere casa ma in realtà è il sedere del mio cane no ecco ecco allora salutiamolo e diamoci appuntamento cara Marta tu ovviamente poi ti possiamo rinvitare su queste pagine vieni con piacere quando volete anche perché abbiamo toccato solamente i primi tre punti delle cose che ma sta scherzando beh però abbiamo parlato di tante cose interessanti in Estad tu lo sai vieni quando vuoi noi ricominciamo le lezioni addirittura il primo ottobre lunedì con tante novità e poi le raccontiamo attraverso questa pagina per il momento grazie 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 di questa nostra bella chiacchierata che è durata un'ora qui ci salutano ciao Gianluca grazie a te Daniele per quello che fai perché pochi fanno questo tipo di lavoro davvero guarda grazie a te qui ci è saluta Gianluca Squotto ciao Marta ciao Dani rivedrò tutto dall'inizio grazie è arrivato adesso beh sai una cosa che a me piace farlo però non lo posso fare da solo quindi sono molto contento quando trovo colleghi ma soprattutto amici con i quali poter fare questo giocare insieme e stasera la siamo giocata io gioco quando vuoi è che non lo so Martolina grazie mille ti voglio bene noi poi ci sentiamo con calma un saluto a tutti i ragazzi che ci hanno seguito e a chi lo vedrà poi indifferita qualsiasi domanda comunque scrivetela comunque qui sotto perché poi noi continuiamo si può continuare anche a rispondere sul post quindi ciao per la nostra avventura ciao 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 Ciao.